Grazie Presidente, prenderò anche meno. La mozione è figlia di un percorso che abbiamo cominciato circa due anni fa quando praticamente siamo entrati all'interno dell'amministrazione in Commissione Roma Capitale, sono state fatte numerosissime audizioni di tutte le strutture di tutti i municipi e si sta concludendo la prima fase con una relazione importante che riguarderà lo stato di attuazione del regolamento sul decentramento amministrativo. Nel documento unico di programmazione del 2018 sono stati individuati due obiettivi, quello di identificare delle aree di miglioramento attraverso l'osservatorio sul decentramento e avviare delle sperimentazioni e il secondo obiettivo che riguarda la revisione del regolamento, obiettivo che va per la fine dell'anno e per il quale stiamo predisponendo alcuni indirizzi, mentre per il primo obiettivo operativo proprio questa mozione risponde da quelle linee guida che andavano in partire all'aggiunta per proseguire questo tipo di attività. La Commissione ha discusso in un'apposita anche seduta gli indirizzi che poi sono confluiti all'interno di questa mozione, di quest'atto di indirizzo è stata la seduta del 9 aprile dove abbiamo individuato un percorso per poter sviluppare il nuovo decentramento amministrativo di Roma Capitale e questo riguarda l'infrastruttura, l'inizio di una sperimentazione che mi impegno a leggere velocemente a realizzare appunto la sperimentazione di nuove forme di decentramento amministrativo municipale garantendo attraverso il supporto dell'osservatorio del decentramento l'attuazione di progetti di decentramento speciale presentati dal singolo municipio e condivisi da Giunta e Consiglio Municipale sulla base della morfologia urbana o comunque delle peculiarità caratteristiche d'esigenza del territorio. Noi abbiamo sempre parlato dei municipi ma spesso e volentieri sappiamo che i municipi sono diversi tra di loro e quindi bisogna cominciare a ragionare al tema delle competenze ma sarà anche quello del tema delle risorse economiche strumentali e organizzative alle esigenze del territorio. È evidente che il verde ad esempio del nono municipio è diverso dalla consistenza del verde del primo municipio e così via sulla diversità del territorio e delle varie materie quindi se vogliamo rispondere alle esigenze dei cittadini bisogna cominciare ad analizzare con dei criteri oggettivi e studiare effettivamente quello che è l'assetto del territorio sulla base delle quali anche capire come le singole funzioni amministrative si spostano. Questo è un elemento che però non può essere fatto senza una... bisogna portarsi dietro anche tutta una serie di un miglioramento della macchina amministrativa e quindi l'ampio decentramento che bisogna raggiungere va fatto attraverso il raggiungimento di alcuni criteri e priorità che diamo diciamo all'aggiunta e che dovranno essere eseguiti. Quello di valutare l'esigenza e l'impatto del decentramento sulla collettività, di implementare la trasparenza dell'attività amministrativa, di disincentivare i fenomeni che noi abbiamo chiamato navetta presidente per cui gli uffici dicono non è di mia competenza e un tema diciamo fa un passaggio continuo senza poi arrivare a una soluzione. Implementare l'autonomia amministrativa e finanziaria dei municipi è previsto nello Stato di Roma Capitale e nella legge istitutiva di Roma Capitale. La semplificazione dei processi e dei procedimenti che dovrà anche passare nel caso in cui si vada a decentrare alcune o attuare il mero decentramento già previsto all'implementazione anche di sistemi di controllo anche nell'ambito degli appalti e dell'anticorruzione. È evidente che se poi alcuni municipi possono operare come alcuni dipartimenti è evidente che il livello di controllo deve essere elevato quindi non si può parlare di decentramento senza parlare anche di controlli e di sistemi di anticorruzione. E infine anche cominciare a prevedere nelle singole società, nei singoli contratti di servizio dei paragrafi, dei punti che riguardano proprio il rapporto tra i servizi che vengono erogati dalle società partecipate e i municipi perché poi è quello che spesso ci chiedono su AMA, su ATAC o su altro e nei contratti di servizio questa parte non c'è. Ora se Roma è Roma più 15 municipi dobbiamo ovviamente garantire che anche i municipi possano concorrere in questo senso. È l'inizio di un percorso, non è la soluzione, l'abbiamo studiata, abbiamo visto che si può fare, è già nel DUP e quindi gli uffici sono già pronti per poter avviare diciamo questo percorso e quindi con questa mozione chiediamo insomma alla Giunta di poter avviare un percorso che andrà a migliorare il decentramento all'interno di Roma Capitale. Grazie.